Al teatro Mercadante, due giornate di studio su Sarah Kane, la visionaria drammaturga inglese che a metà degli anni 90 sconvolse il pubblico britannico con le sue opere allucinate e crudeli. È un teatro che non scende a compromessi, è un teatro degli estremi, degli estremi dei sentimenti, estrema violenza, estremo amore che dimostra questi sentimenti fortissimi, quindi non riduce queste cose per tenerle sul palcoscenico ma anzi li amplifica. Il teatro di Sarah Kane non è stato subito capito dalla critica, anzi ha subito forte critiche, ma nel tempo, all'intorno delle prime produzioni di Crave, il suo teatro ha acquistato un apprezzamento dalla parte anche della critica stabilita. I registi importanti si sono adoperati per mettere le sue opere in cena, quindi ha avuto nel tempo un apprezzamento sempre maggiore. Organizzato da Roberto Davascio e Bianca del Villano, in collaborazione col Comune di Napoli, l'Università Orientale, il Centro Argo e Arci Movie, il seminario ha esplorato in un'ottica interdisciplinare i temi essenziali ed alcuni aspetti inediti dell'opera di Sarah Kane col contributo di studiosi di fama internazionale. Una così, che ha scritto teatro non per l'intellettualità, non per il bel linguaggio, non per fare una performance generazionale che facesse bella figura, ma che ha scritto, inciso queste regole sregolate del nostro vivere e che prendeva spunto all'inizio dal libro, come lei lo definiva, più violento che ci fosse, la Bibbia. Noi continuiamo solo a conoscere il male attraverso la televisione e vedere le cose in televisione ci sana, ci dà un equilibrio. Non è vero, siamo fortemente squilibrati e questo Sarah Kane l'ha assolutamente ritratto con una crudeltà che era la crudeltà esatta, metaforica, che lei prendeva dalle situazioni vere e sanguinanti di tutto il mondo, per cui stava male, letteralmente male. Nel 1999, ad appena 28 anni, Sarah Kane si tolse la vita. Aveva da poco finito di scrivere lo sconcertante Psicosi delle 4 e 48, che nel 2001 fu messo in scena per la prima volta in Italia da Pierpaolo Sepe nella traduzione di Gian Maria Cervo. Sarah Kane fu un'artista che ebbe un effetto dirompente su tutto il sistema teatrale, è stata sicuramente una delle protagoniste del dibattito teatrale degli anni 90, un dibattito che riportò il teatro testuale al centro dell'attenzione della comunità dopo decenni che questa era venuta meno, perché si pensava che Beckett fosse un crinale dopo il quale esisteva una crisi. Sarah Kane sperimentò delle tecniche polifoniche e post-drammatiche allo stesso tempo che la resero una delle protagoniste. Poi per molti aspetti la cronaca si è fusa all'estetica e quindi Sarah Kane si è diventata più dei suoi maestri, anche più dei suoi padri drammaturgici, un caso celebre, una specie di Kurt Cobain della drammaturgia per così dire. Un convegno su Sarah Kane è qui perché qui è il mercadante del luogo del teatro a Napoli ed ora perché sono passati vent'anni e Napoli dopo vent'anni ricorda ancora quella ragazza, quella drammaturga, quell'artista che ha sconvolto le scene inglesi negli anni 90, il cui impeto, la cui forza drammatica ha scavalcato l'Inghilterra per arrivare poi anche in altri paesi come la Germania o l'Italia e ancora oggi ricordo è molto forte. E Napoli che ha visto per esempio al volgere degli anni 2000 la prima messa in scena di 4,48 fatta da una produzione napoletana non potevano ricordarla adesso a vent'anni dalla morte dal momento che ha influenzato così fortemente le drammaturgie europee al volgere del secolo. Alcune performance dal vivo hanno arricchito i lavori del seminario la messa in scena di Psicosi delle 4,48 con Elena Arvigo le interpretazioni di Imma Villa, Elisa Buttà, Valentina dal Sigre Cirollo, Maria Chiara Falcone e una contaminazione musicale di Cristina Donadio. Sarah Kane è un universo. Ho pensato, non ho mai messo in scena, è un momento buono per aprire una porticina e mi è venuta in mente Janis Joplin, non lo so perché improvvisazione jazz, malessere stare dentro quello che, dentro la parola quindi ho chiamato il mio amico Davide Costagliola con il basso e abbiamo cominciato, una volta ci siamo vissi abbiamo cominciato così Bebe, 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 bebe Io non capisco perché l'hai fatto Allora chiedimelo Ti ha allentato la tensione? Posso guardare? No! Perché ti sei tagliata il braccio? Perché è fortissimo, cazzo? Perché è straordinario, cazzo? Posso guardare? Puoi guardare, ma non toccare Vorrei, vorrei, vorrei adesso comprarti un gattino ma non te lo comprerò perché so che prenderebbe molto più attenzione di quante ne prenderei io e allora no, no, bebe, no Honey!